Siamo appena arrivati qui al castello di Orlik ed è un posto veramente bellissimo quindi non vedo l'ora di scattare qualche foto Sembra un castello delle principesse Infatti siamo a tema stamattina No, è davvero bellissimo e più tardi entriamo anche dentro a guardare come è fatto, sono curiosa È esattamente il tipo di stanza che vorrei avere per fare colazione Tante persone vengono qui dall'Italia per visitare Praga Ma la Repubblica Ceca ha tantissime cose da vedere e non soltanto la città di Praga Io ho! Ciao! 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 Samu Matti Ciao! marca ed è bellissima vedere la natura da un altro punto di vista di chi ciao